3 nuovi voli 3 nuovi voli 3 nuovi voli e per gestire in realtà tutte le operazioni in Italia ci sono quasi 900 persone, sono tutte assunte con contratto italiano e quindi sì anche coloro poi che voleranno su Catania faranno parte di questo gruppo. Ci sono altre novità previste per l'anno? Sicuramente sì però ci dobbiamo rincontrare. Ingegnere Mancini oggi Isiget ha presentato 3 nuove rotte da Catania per Londra, Newton, Manchester e Napoli. Cosa vuol dire questo per l'aeroporto di Catania? Vuol dire evidentemente che c'è un'opportunità in più, significa, sottolinea una partnership che si rafforza, Isiget è presente a Catania sostanzialmente in maniera crescente dal 2007 con una destinazione ma dal 2010 in poi ha aggiunto una destinazione all'anno, quest'anno ne aggiunge 3, ha già nell'anno passato superato i 500 mila passeggeri sullo scalo di Catania, circa l'8% di market share, significa che è un rapporto che sta diventando più forte, che si consolida, che c'è un reciproco apprezzamento, abbiamo molto lavorato per far sì che questo accordo si determinasse e quindi credo che costituisca innanzitutto un momento di soddisfazione per entrambe le società, che possono sviluppare ovviamente opportunità di business ma poi c'è un dato accaduto sul territorio che mi piace sottolineare perché significa che da domani mattina il territorio ha più opportunità di collegamento con il resto d'Europa, che significa più opportunità di promozione del territorio in termini turistici, di offerta turistica sul territorio, gastronomica, culturale e dall'altro lato un'opportunità in più per i siciliani che possono raggiungere con più facilità il resto d'Europa. Aver superato il declassamento dell'aeroporto vuol dire cosa in questo momento? Guardi questa cosa del declassamento non c'è un declassamento, c'è una scelta, ma non è un declassamento, c'è una scelta della Commissione europea che nel individuare i nodi core della rete dei trasporti diciamo europea, ha individuato non l'aeroporto di Catania ma Catania col suo sistema di infrastrutture per un criterio di popolazione, di presenza di popolazione, non inserita nella rete core. Questo non costituisce un declassamento, significa e non è un fatto secondario che dei 37 miliardi di euro che il programma Tenti europeo destina alle infrastrutture, questi soldi non andranno alle infrastrutture dei nodi non core. Noi su questo abbiamo, come sa, fortemente reagito. Abbiamo trovato adesso sul piano regionale una forte disponibilità del Governo ad attenzionare questa vicenda. L'assessore Bartolotto in conferenza di Stato Regioni ha sostanzialmente sostenuto queste ragioni. Nel piano nazionale degli aeroporti questo problema dovrebbe, dico dovrebbe perché ancora non è, non c'è il piano esitato, ma dovrebbe essere stato rivisitato. Quindi ci attendiamo che da questo possa poi derivare una forte presa di posizione del Governo nazionale anche rispetto all'Europa, tenuto conto del fatto che evidentemente il processo regionale nel frattempo ha camminato e quindi più tempo passa e più poi oggettivamente è difficile intervenire. Però secondo noi ci vuole una forte attenzione del livello istituzionale perché si valorizzi quello che è un sistema che in Sicilia serve da solo più di 3,3 milioni di passeggeri, il 70% dell'isola, quindi mi sembra oggettivamente che non sia una problematica di secondo piano e non soltanto rispetto alla Sicilia ma è uno dei nodi principali della dorsa nazionale. Novità entro la fine dell'anno, ha accennato poco fa. Novità di che tipo? Nuovi voli, nuovi accordi con compagnieri? No, no, ci sono sicuramente degli accordi in cui stiamo lavorando, delle ipotesi in cui stiamo lavorando, mi sembra giusto che lo si farà come abbiamo fatto oggi quando c'è l'accordo compiuto, a noi piace dare un segno di concretezza e non c'è le cose quando sono fatte. Noi stiamo molto lavorando, questo glielo confermo e mi auguro che si possa fare a breve anche ulteriori passaggi che promuovano e presentano nuove opportunità. Ingegnere, migliorare l'uscita per l'aeroporto dalla tangenziale provenendo da Catania è una cosa possibile? Vi state adoperando? È un tema possibile, io credo doveroso. Devo dire che da questo punto di vista abbiamo registrato questa grande sensibilità dell'amministrazione Bianco che ha già istituito un gruppo di lavoro al quale stanno lavorando dei tecnici dell'amministrazione comunale, dell'amministrazione provinciale e della SAC, quindi credo che con l'interessamento diretto del Sindaco Bianco ma anche della Sorre Salvo ci sta lavorando a questo tema, quindi mi auguro. Purtroppo è una problematica che evidentemente non riguarda l'aeroporto, nel senso che non sono aree di pertinenza all'aeroporto, però abbiamo riscontrato questa sensibilità nuova che ci sembra un elemento positivo e che spero che a breve si possa trasformare in risultato.